Ciao, veloce video su una questione che è emersa durante la formazione di ieri e che è assolutamente in linea con i dibattiti che vanno avanti su LinkedIn e non solo su LinkedIn da un po' di tempo e riguardano il connettersi o meno con tutti che è un argomento abbastanza spinoso. Ora ci sono diverse teorie, ci sono quelli che io chiamo i cosiddetti libertini, quelli che io chiamo i connection nazi che hanno più o meno facilità nell'aggiungere connessioni. Secondo me il punto di vista è totalmente sbagliato, non è mai un problema su LinkedIn di connettersi o meno con qualcuno, cioè un contatto è solo un più uno nella tua rubrica ma tanto vale che tu prenda il numero di telefono di questa persona anziché il contatto LinkedIn, cioè è molto più potente avere il numero di telefono di qualcuno oggigiorno perché di sicuro tutti hanno un telefono ma non tutti hanno un profilo LinkedIn chiaramente. Il problema su LinkedIn o l'opportunità su LinkedIn è quella di iniziare conversazione con le persone. Pensa che LinkedIn quando ti connetti con qualcuno ti mette un cancello che ti tra virgolette obbliga a inserire un messaggio personalizzato. Pensa che hai l'opportunità quando qualcuno ti chiede un contatto di rispondere senza accettare, quindi di interloquire con la persona prima ancora che questa persona sia in tuo contatto. Pensa che puoi parlare con chiunque su LinkedIn attraverso i gruppi senza essere in contatto con le persone. Pensa che puoi vedere le attività recenti di qualunque contatto su LinkedIn e commentare, fare like e condividere quello che lui pubblica senza che tu sia in contatto. Quindi certo il contatto LinkedIn è una cosa importante ma non è la cosa più importante. Il contatto è un record in un database. LinkedIn serve a conversare con le persone che ti interessano, con i tuoi obiettivi professionali. Stai cercando di entrare in contatto con un potenziale cliente, hai miliardi di possibilità di parlare con lui prima ancora di chiedere il contatto LinkedIn. Stai cercando un nuovo lavoro, hai la possibilità di interagire con le aziende che ti interessano, con i tuoi futuri capi, prima ancora di chiedere un contatto LinkedIn. Non buttare questa opportunità, quindi connettersi con tutti su LinkedIn o no? Secondo me la domanda è posta nel verso sbagliato. Il verso giusto di vedere la cosa è sfrutta tutte le occasioni che hai per entrare in conversazione con la persona. Scoprirai che spesse volte il contatto è l'ultimo tassello di questo puzzle e neanche il più importante.